Abbiamo un tema tosto, e quindi vi chiederei di azzerare il timer qua. Ah no, l'ha già messo giusto, vedo neanche più. Siccome il tema è tosto, io adesso vado in confusione. Remo Ruffini e Pietro Ruffini, venite. Eccoci qua. Allora, mi devo mettere in mezzo perché fa sarà un ring, oppure devo... No, no, mettetevi lì. Ah, dai. Fantastico. Allora, non c'è bisogno che li presenti, no, vi presento, c'è scritto anche lì, ovviamente, Remo Ruffini, presidente di Moncler, anche amministratore delegato, se non sbaglio, e Pietro Ruffini, invece, hanno sbagliato il cartello perché invece è il fondatore di Archive. Avremmo fatto qualche casino nel mandare, sai, quando ci sono i... che va sulla... come si dice, la stringa lì, insomma, un pastocchio. Ok, parliamo di padri e figli. Allora, Remo Ruffini ha sempre detto, a volte anche in un modo bruschetto, che i figli, insomma, non è che per forza devono ereditare l'azienda. Prima, peraltro, l'ha detto anche, accennava Veronica Squinzi, perché la capacità imprenditoriale non si eredita. Io volevo però capire come un padre lo spiega ai suoi figli. Ma, a parte materia complessa, tu hai detto tosta, io dico complessa. Esatto. Ma ho sempre detto la verità, ho sempre dato il mio pensiero, ho sempre detto che per il bene loro e per il bene dell'azienda, devono non meritarsi, però devono creare valore per la marca, io parlo sempre di marca, qualunque essa sia, e credo che, ma anche proprio per loro, nel senso che io credo che quando vedo figli di imprenditori che sono in azienda, che sono lì perché hanno quel cognome, credo che non sia un valore per nessuno. Dunque ho sempre detto a loro, dovete dimostrarmi di creare valore. Questo è stato il, o quantomeno forse non abbiamo neanche mai parlato. Ecco, questo è un po', no? Ecco, infatti mi metto in mezzo, perché secondo me è meglio, scusami. Vai. No, perché sennò ci... Però per un figlio che ha un papà famoso, no? E che tutti... Non è normale pensare che io entro in un'azienda e diciamo di papà? Ma secondo me l'abbiamo sempre vissuta con grande naturalezza, e con grande, secondo me, anche stimolo ai nostri confronti, di fare o qualcosa di nostro, o con grande ambizione. E di fatto tutto è un po' nato quando un po' studiavamo, dove abbiamo un po' tutti condiviso la necessità, sia per me che per Romeo, che mio fratello, di vivere un'esperienza vera al di fuori di un contesto familiare. Che questo, credo, entrambi ha aiutato moltissimo. Quindi mettersi alla prova in luoghi molto competitivi o molto stimolanti e provare a dare, diciamo, il proprio attributo. Io andai in Bain & Company, che è una nota... Prima tu sei andato a studiare all'estero, però hai voluto... Eh no, perché questo, secondo me, fu un passaggio importante. Sì, lì diciamo che... Eri giovanissimo. Ero giovanissimo, avevo 15 o 16 anni, vivevamo a Como, che era una cittadina abbastanza piccola, e avevo sempre un po' avuto questo sogno di andare a studiare all'estero, dell'Inghilterra, e mi ricordo un'estate, condivisi un po' l'idea di andare a uscire un po' dalla comfort zone di casa, e partì, in effetti fu la prima vera esperienza super formativa per me. Poi arriviamo a Bain & Company. Veramente ti ho convinto io un mese di agocostrogrammo in vacanza. Quindi io posso uscire allora, non solo stare in mezzo, ma proprio vado via. No, no, parlate, è meglio, è molto meglio, molto meglio. Anche perché l'archetto mi ha già andato via. Aspetta un attimo, eh. Lei cosa... no, Remo Ruffini, ecco, quando lui ha voluto andare a Londra, che cosa ha pensato? Mio figlio va via? Hai appena detto che l'hai convinto tu, però... Sì, l'ho convinto perché pensavo fosse una buona esperienza. Più che altro ero ansiolitico, comunque aveva 15 anni, e non abbiamo trovato un collegio dove poteva andare, stava in casa con questo suo amico. Dunque lui ero obbligato a mandare un messaggino quando usciva la mattina, un messaggino quando andava a scuola, un messaggino quando usciva a fare la merenda, un messaggino quando ritornava a scuola, un messaggino quando andava a casa. Ma mi direi che lo facevi davvero, perché mia figlia la strozzo, se no, eh. No, no, davvero. Forse i primi mesi sì, ero veramente un bambino. Poi pian piano ci abbiamo trovato... No, poi gli consigliavo la spesa, gli spiegavo come fare la ricetta, buttare la pasta, sento il sale, tutto era un continuo. Ma c'è un aspetto di Remo Duffini che non conoscevo, fantastico. Eh sì, ero ansiolitico, avevo paura, che ho detto questa sola, quindi non parlava inglese, comunque poco. Si trova in mezzo a sta cosa, ho detto meglio stargli vicino, infatti io ho stato molto vicino, però con i messaggini, che i tempi c'erano in occhia, no? Certo. Era un casino, non era così semplice. Io peraltro pensavo che non avrebbero mai funzionato, i messaggini sono diventati la nostra... Va bene, abbiamo fatto un po' di pastrocchi con tutti i microfoni. Questo aspetto non lo conoscevo, quindi c'è l'aspetto paterno e poi c'è l'aspetto imprenditoriale, però. No, beh, sempre secondo me è il doppia faccia della medaglia, credo che bisogna dare e bisogna essere però concreti anche nel dare, nel senso che quando hanno avuto bisogno di una mano, ci sono sempre stato, però poi ho sempre detto dovete meritarvelo, non credo che bisogna regalare niente nella vita. Allora, tu dicevi che sei andato appunto a fare delle esperienze fuori, quindi bene in company, e poi? Ma di fatto, gli ultimi anni di università, che c'è un momento un po' emblematico, cosa vuoi fare da grande, abbiamo un po' condiviso quest'idea di provare a, diciamo, entrare in un mondo abbastanza competitivo, vero, che penso sia l'esperienza che mi è servita di più, perché di fatto ti confronti con tantissimi ragazzini tuoi cotanei, o più grandi di te, che hanno una voglia, cazzo, di fare veramente bellissima, e dovevo stare un anno, un anno e mezzo, e ho finito per starci tre anni e mezzo, perché poi entro un po' a far parte di quella, non competitività, ma voler dimostrare anche tu, e ho fatto questi tre anni difficili all'inizio, perché ti mandano a destra, a sinistra, in settori anche diversi, e poi di fatto sei un po' un po' macinato a quest'idea che passiamo sempre tanto tempo libro assieme, e c'era sempre un po' l'idea di che Moncler era una storia straordinaria, ma molto guidata, diciamo, da papà, dalle sue idee, però avevamo allo stesso tempo la passione per tanti altri settori e tanti altri idee, e quindi un po' la mia idea era stata, ma perché non mettiamo un po' fattore comune o un po' meglio anche un po' un'idea nuova o diversa di un po' più di community, di piccole aziende che possano dialogare assieme e provare a fare qualcosa un po' diverso da Moncler, visto che tutti ne abbiamo, un pochettino c'era la voglia e il confronto, di guardare anche nuovi settori, nuove cose, e di fatto lascia i Bain per provare un po' a fondare, ad iniziare questo percorso con Archive, che poi si è un po' diciamo si è un po' più amplificato, con l'idea veramente per per la nostra famiglia, che dopo tra l'altro parla anche Renzo, che ha fatto, secondo me è benissimo lui, di provare anche a fare altro, e provare a creare un collettivo di realtà che vada al di fuori del singolo concetto di azienda familiare, dovere a tutti i costi farne parte, anche perché poi dopo non è la classica storia Moncler della quattro generazioni, è un'azienda quotata, super managerizzata, super indipendente anche in qualche modo, quindi per questi motivi è un po' condiviso di arrivare anche a un percorso alternativo. Allora io ricordo che Archive è poi investito in alcune società tipo De Attico e Langosteria, questo per dare il quadro, ma io volevo... Moncler cos'è per Remo Ruffini? È una storia fantastica che è nata negli ultimi 70 anni, perché è una parte... Avete fatto quest'anno i 70 anni, state festeggiando le ansie. Sì, esatto. In una parte non l'ho vissuta, anche se l'ho vissuta da consumatore, perché diciamo negli anni 70, 80, quando c'era questa... che non era ancora di moda, non si dice i paninari degli anni 80, io invece negli anni 70 abitavo a Como, come diceva lui, abitavo fuori Como, 9 chilometri, ho bisogno... purtroppo faceva molto più freddo oggi, perché oggi non è così. Ai tempi faceva veramente freddo, anche mi serviva una giacca pesante, la mamma mi aveva regalato questa giacca, che mi era rimasta un po' nella testa, perché era una cosa enorme, azzurra, la usavo per andare in moto, andare a sciare, che erano un po' le mie due passioni. Dunque quando è arrivata questa possibilità, nel 2003, era un marchio, era quasi sconosciuto, ma per me era un marchio super importante, con una radice importantissima, con una storia degli anni 70, conoscevo un po' tutta la situazione, allora da lì mi sono iniziato, è una piccola azienda, che a me piaceva molto, proprio la radice della marca, e da lì siamo partiti, pian pianino, nel senso che volevamo solo essere fedele alla marca, e creare una grande marca, questo era un po' il progetto, è stata la mia storia negli ultimi 18 anni, 19 anni, ho fatto praticamente solo quello, ho avuto due lavori nella mia vita, il mio primo quando ho fondato la mia azienda, nel 2000 forse, nell'82-83, e poi Moncler nel 2003, è una storia che è, cosa faccio a dire, cos'è per me a Moncler, è stare vicino al mio consumatore, quello che dicevate prima, lui diceva, non siamo noi gli azionisti, gli azionisti sono i nostri consumatori, dunque noi dobbiamo tutti i giorni dimostrare, di essere in grado di creare valore, dunque per tornare al discorso dei figli, non i figli, tutto giusto, però io devo dimostrare al mercato di creare valore, devo dimostrare ai miei consumatori di creare valore, perché se non ci sono più loro, non ci sono neanche gli investitori, non c'è nessuno, dunque è stata una sfida, sempre non conoscevo il mondo pubblico, del mercato quotato, dunque ho vissuto delle esperienze veramente forti, in una prima fase ho dovuto mettere a posto l'azienda, perché dovevo mettere a posto le proprie strutture, le infrastrutture, poi sono passato a diventare un po' direct to customer, dunque dialogare direttamente col consumatore, dunque aprire dei negozi, aprire l'online, poi mi sono trovato nel 2003, io ho tanti fondi all'interno dell'azienda, mi sono trovato nel 2011, che i fondi volevano uscire, dunque o vendavamo a un terzo, o ci quotavamo, lì era complesso, in quella missione non avevo nessun tipo di conoscenza, mi sono messo a studiare, tra virgolette, che non era proprio la mia passione, poi non ce l'abbiamo fatta nel 2011, perché è stato il problema della Grecia, tutto quel disastro lì, abbiamo riprovato nel 2013, ci siamo quotati, ed è iniziata un'altra avventura ancora, perché prima avevamo dei fondi, con cui avevamo un ottimo dialogo, ma era più semplice, avevamo un tavolo dove ogni consiglio, ogni mese, ogni mese e mezzo, ti trovavi, chiacchieravi, trovavi le idee, e la strategia, da lì ci siamo andrati su un tavolo, che invece avevamo davanti un ragno, adesso non mi viene il nome, però lo chiamiamo ragno, dove si trova davanti tanti investitori, poi da lì abbiamo capito, che dovevamo cambiare, questo mondo era molto, io ho sempre fatto questo lavoro, e più o meno era la stessa cosa, negli ultimi 30-40 anni, collezione, sfilata, o piuttosto che campagna, e invece cinque anni fa, mi sono reso conto, che il mondo stava cambiando, ma stava cambiando fortemente, e abbiamo deciso, di passare da azienda stagionale, a azienda mensile, che per il nostro mondo, diciamo, tanti razzeschiamenti, erano già, però per il nostro mondo, era proprio un turn in point, un modo nuovo di ragionare, l'abbiamo fatto cinque anni fa, e siamo contenti, di aver trasformato, questa azienda oggi, in questo modo, detto questo, poi è arrivato il COVID, tutto molto più complesso, perché il nostro atteggiamento, era veramente un atteggiamento digitale, ma lo stesso modo fisico, noi erano due canali, che si scambiavano questa energia, che per noi, era un atteggiamento fondamentale, adesso stiamo ripartendo, con una cultura diversa, perché secondo me, il COVID ha cambiato molto, quantomeno per la nostra marca, è cambiato il modo di vivere, è cambiato il modo di essere, la gente ha veramente, io penso, cambiato il modo di ragionare, ha un forte legame al possesso, si chiede molta esperienza, si chiede molta esperienza, su un'azienda che deve vendere possesso, dunque credo che sia ancora più complesso, che l'esperienza sia così complessa oggi, gioco di parole, che sia però indispensabile, che era un'esperienza forte per il consumatore, per far sì che, io dico sempre, non c'è più quella, prima c'era, noi in casa, tutti lo chiamano CRM, Custom Relation Management, che era un po' il rapporto, che aveva il consumatore a uno a uno, adesso devi parlare più con le community, e far sì che questi poi vengono da te, dunque un lavoro molto complesso, perché il mondo poi ha culture talmente diverse, che è molto difficile conquistare il consumatore giapponese, dico sempre, Tokyo e Pechino sono a un'ora e quaranta, un'ora e cinquanta di volo, ma le culture sono talmente diverse, il modo di dialogare con loro è talmente diverso, che devi viaggiare molto, capire molto, e avere tanta cultura, ma cultura, è facile dirlo quando parli dell'Italia, parli di Inghilterra, della Germania, nel mondo ha tante culture diverse, dunque complesse. Io devo uscire un attimo dal seminato di questo, perché tu hai detto che il Covid ci ha cambiato tutti, una parola che si è cambiato anche te. Ha cambiato, nel senso a livello personale no, però mi ha fatto capire tante cose, io sono molto legato a leggere il consumatore, la mia passione è proprio leggere il consumatore, il consumatore è cambiatissimo, nel senso forse l'Europa è quella che è rimasta più simile, come atteggiamento agli anni passati, ma se uno va in Stati Uniti e l'atteggiamento è totalmente diverso, la gente vuole più vivere nelle grandi città, vuole vivere in campagna o le periferie, vuole fare hiking, biking, vuole andare e stare in montagna o stare all'area aperta, dunque l'atteggiamento proprio anche della strategia, del prodotto, del modo di ragionare, deve cambiare molto, perché l'approccio è totalmente diverso, quel lusso del possedere, secondo me è molto cambiato. Pietro, ma io come si fa a superare, tutti i figli devono superare i genitori, di solito si dice che devono abbatterli, una volta si diventava vecchi presto, oggi si diventava male, non più, e come si fa a confrontarsi, parlando seriamente invece, con un genitore così, a carattere così forte, non scherzi neanche tu da quello che so, però, prego. Noi abbiamo creato un rapporto, fin da che erano ragazzini, più amicale, che padre e figlio, e quindi abbiamo un po' coltivato questo confronto continuo, abbastanza aperto e trasparente, su tutto quello che stava facendo lui, che di fatto, in qualche modo, ci ha formato, e l'abbiamo vissuto, secondo me, con grande naturalezza, perché di fatto, i primi anni di Moncler, io avevo 13-14 anni, quindi sei un bambino, che ti informi, che cerchi di capire, che prima, di fatto, ai tempi di New England, era più ancora familiare, quindi si passava veramente, sabati e domeniche, a giocare con muletti, nei magazzini, e quindi l'abbiamo veramente, vissuto con grande naturalezza, e non con, come dire, con ansia, con angoscia, di dire, guarda cosa sta facendo, e come, e cosa può capitare a noi, in un futuro, e lo stesso, secondo me, è questo rapporto, che è più, diciamo, non definizione da, da padre e figlio, ma anche, diciamo, più amicale, mi piace, mi piace chiamarlo, ci ha sempre dato, anche un po', l'opportunità, di, di esprimere, la nostro, il nostro punto di vista, a volte, diciamo, concorde, altre volte, no, e poi l'opportunità, di, di costruirci, un pochettino, il, il nostro, il nostro percorso, prendendo poi, un pochettino, l'esempio, no, che, che, che alla fine, quando tu vivi in casa, capisci, come, immaginano tutti quelli, che hanno, parlato prima, capisci, la, so, la parola di, rigore, il sacrificio, cioè, cosa vuol dire, farlo in, in determinate, determinate cose, quindi, non l'abbiamo mai vissuta male, ma l'abbiamo vissuta quasi, come un grande pregio, di poter avere, diciamo, questo capitale umano, in casa, tutti i giorni, che, che in qualche modo, penso, abbia formato, sia me, che mio fratello. Ecco, il rapporto con tuo fratello, mi dispiace che non ci sia, anche lui, perché, se no, vi avrei fatto intervistare, direttamente, vostro padre, e, ma, come parlavate, fra di voi, cioè, di cosa, affrontate, avete affrontato questo tema, fra di voi? Non l'abbiamo mai, come diceva anche lui prima, non l'abbiamo mai affrontato, così direttamente, detto ciò, abbiamo, sempre avuto un rapporto, secondo me, diverso, da quello che è, tra, un padre e figlio, quindi, si passava, si è sempre passato tanto tempo, libro assieme, quindi, si è sempre discusso, si è sempre parlato, ma con naturalezza, non c'è mai stato un momento in cui, di fatto, che Romeo si è parlato, ah, ma guarda, cosa, cosa si deve fare, si è sempre avuto, un po' più, una condivisione di valori, nel dire, che c'è la volontà, sia mia, poi parlo anche per lui, di fare qualcosa di bello, di tangibile, e, col massimo impegno, e dedizione, ecco, però, cercando di, trovando il, il nostro percorso, che non deve essere, a tutti i costi, di fianco, sotto la sua ala, e sotto il suo, alo, non so, come si può definire. Adesso però, Romeo, se non sbaglio, si occupa di Stone Island, giusto? Di una piccola parte di Stone Island. Ecco, sicuro, precisa. Nel senso che, quando abbiamo acquisito Stone Island, mi sembrava che, Romeo invece, ha avuto un'esperienza simile, anche se un po' diversa, in un private equity, per tanti anni, con una persona, che secondo me, l'ha formato, l'ha formato molto, e abbiamo acquisito Stone Island, un anno e mezzo fa, e mi sembrava, che aveva acquisito, la maturità, per darmi una mano, perché, anche lì, una bellissima azienda, con una bellissima, una famiglia fantastica, però con una cultura diversa dalla nostra, nel senso, che parlavamo prima di cultura, una cultura diversa dalla nostra, perché è ancora una cultura on sale, meno, non ha il consumatore davanti, ho bisogno di persone, che mi deve essere la mano, non potevo neanche prendere da Moncler, tante persone da mettere, dunque avrò mai dato la parte dei mercati, con una struttura sotto, però di qualità, che c'era già, e credo che abbia, adesso un po' di tempo, e gli dico sempre, qualche anno davanti, per dimostrare che, sia una funzione giusta per te, si sta impegnando, vediamo, penso che ce la possa fare, non voglio regalare niente, in questo caso, però, sentite, ma qual è un pregio, che vi riconoscete reciprocamente? Ma secondo, vado io, secondo me, quello che può sembrare banale, ma che non smette mai di, non siamo abituati a darci, grandi complimenti a vicenda, ma secondo me in primis, diciamo curiosità, perché condividiamo tante passioni assieme, lavorative e non, e sapere come, di fatto, parli del nuovo albergo in Messico, piuttosto che del nuovo ristorante a Londra, piuttosto che del nuovo brand, o della nuova tendenza, sapere sempre che, ancora oggi, quella curiosità, è quello di entusiasmo, che sa sempre tutto, a volte più di noi, credo che sia un, un grande valore, e allo stesso tempo, un'altra qualità, che insomma, nel tempo rischi un po' di perdere, ma che invece, è sempre molto vaida, un po' anche il rigore, nel fatto, che quello alla fine, in tutto quello che si fa, alla fine paga. Un suo valore? Non è mica facile. Ce ne sono tanti. No, scherzo. Uno solo è difficile. No, mi stavo pensando, mentre vi parlava il giorno, che gli ho chiesto di, perché lui mi parlava di questa idea, io credevo che, eravamo quasi pronti, per creare nella holding, una divisione, separata un po' da tutto il resto, e io ho sempre pensato, che noi conosciamo un consumatore, potevamo fare anche, con degli specialisti, chiaramente perché è il nostro lavoro, potevamo fare anche altri lavori, però il consumatore, era davanti a noi sempre, dunque doveva essere il consumatore, che non conoscevamo, io quando ne abbiamo parlato, ho detto, guarda, possiamo partire, però l'importante è, concentrarsi in quella, su quella strategia. Detto questo, nello stesso giorno, poi gli ho chiesto, però mi segue anche tutto il resto, nel momento che Archive, è controllata dalla holding di famiglia, gli ho dato subito le deleghe, forse dopo un 6 o 7 mesi, di tutta la gestione, di quello che è la holding, che credo che, è un po' il suo lavoro, nel senso che ci vuole tante relazioni, a lui piacciono le relazioni, non è un grandissimo esperto di finanza, anche se lì una grossa parte del lavoro è finanza, però credo che, nella vita a visione, è più importante del lavoro di tutti i giorni, dunque lui si fa dare una mano alle persone esperte in finanza, e credo che, la visione per fare quel lavoro ce l'ha, e dunque anche lì, mi deve dimostrare nel tempo, anche perché abbiamo passato due o tre anni, anche lì col Covid, non eravamo proprio, anche perché eravamo una start up, di questo Archive, avevamo sul tavolo diverse opportunità, che abbiamo, ci siamo un po' rallentati, quando eravamo nel marzo del 2020, gli ho detto stop, perché eravamo chiusi in casa, un po' di paura l'ho presa, dunque avevo tante altre che pensare, e ho detto, fermiamoci un attimo, adesso stiamo ripartendo, però dunque credo che, ci siano buone possibilità di creare valore, un po' come lo che facciamo nelle nostre aziende, ma anche nella holding, e lui credo che sia la persona che può fare. Voi siete un'azienda, intendo Moncler, un po' particolare, perché la controlli, cioè nel senso, Moncler è identificata con te, ma non hai mai avuto paura, di non avere la maggioranza, l'hai detto prima, hai avuto i fondi, hai avuto il mercato, eccetera, allora, volendo, abbiamo pochissimi minuti, mi dispiace, ma volendo, come dire, dare anche un messaggio, oltre a quello di un rapporto padre e figlio, che comunque, vi parlate poco, però, diciamo, vi capite, giusto? Da quello che comprendo? Sì, sì. Ok. Ecco, per crescere, non bisogna avere paura, di aprire il capitale, di aprirsi, di avere soci? No, diciamo che, assolutamente no, io l'ho detto prima, io penso che il maggior azionista, sia il consumatore finale, dunque, non ho mai avuto paura, di scendere sotto il 35, sotto il 24, punto 99, perché se no, scatta l'opo sul 100%, me l'hai fatto imparare, dove è? Tamburri l'ho visto prima, mi ha fatto imparazione di queste cose, no? Non ho mai avuto paura, perché io ho sempre detto, contano solo i risultati, se anche il 99%, se l'azienda inizia a andare male, te la portano via dopo due giorni, dunque, proprio quello, ho sempre avuto i soci, mi hanno dato una grande mano, sono entrati proprio, dall'inizio, proprio, ho avuto, Mittel nel 2003, Carlay, il Tamburi, tutte persone con cui ho trovato, ho avuto un buon rapporto, credo che ho dato, ho dato dei buoni risultati, ma perché il consumatore è matoretta, perché sennò, anche con le persone con cui un buon rapporto, è difficile sono i risultati, dunque la vita è fatta da quello, tutto il resto conta poco, e io sono convinto che, indipendentemente, puoi anche avere l'1%, essere, l'azienda è essere tua, nel senso, credo, io di quello veramente non ho mai avuto paura. Che, non so, padre potresti, che zio potresti essere, che, bella domanda, non era prevista, ma, però, vedendo da padre, credo che, che determinati, concetti e valori, cioè, mi piacerebbe moltissimo, avere questa tipologia di rapporto, quindi di confronto diretto, e non perché, non è determinato da, chiaramente nei primi anni, in età adulta, da padre e figlio, e il condividere anche i sogni assieme, no, perché, come diceva lui, quando, quello che ci piacerebbe fare, no, poi alla fine, è avere, Moncler, e far sì che, che cresca, con, con l'aiuto, evidentemente, di papà, ma anche di un collettivo, di grandi manager, che possano, gestire, supportarci, in un, in un percorso di, di, di crescita, ma allo stesso tempo, di fatto, anche noi, con il family office, provare, a creare una, una, piattaforma, interessante, quindi, con mio figlio, dargli un pochettino, credo, gli stessi stimoli, del dover sempre dimostrare, di non dar mai niente, per scontato, di doversi sempre mettere, costruttivamente, la prova, e, anche quel, per virgolette, non essere mai contento, che, che alla fine, secondo me, che sia sul lavoro, che un po' sulla vita, anche da padre e figlio, sono tutti valori, che, che ti formano, in qualche modo, che, mi, mi sentirei, difficile da dire, Che tu li vivi, giusto, assolutamente, purtroppo, è finito il nostro tempo, mi dispiace, moltissimo, però vi ringrazio, perché siete venuti, apposta, dall'estero, per venire, essere qui con noi, vi ringrazio, davvero, mi accompagno, perché adesso, abbiamo, io devo stare qua, adesso abbiamo, un filmato,